allora benvenuti in questo nuovo video e questo è il proseguo del video che ho fatto poc'anzi sul bosco di prugnolo è normale che farò più video e poi li caricherò uno al giorno se non volete perdere le ultime novità sull'uncinato tenetevi aggiornati iscrivetevi al canale magari almeno saprete almeno se li trovo io porta susi trova susi dove ha trovato una casciola questa è una casciola ancora un po presto naturalmente le casciole sono delle spie le casciole sono delle spie che stanno a significare escono un mese prima che esce il tartufo unginato e un mese prima che finisce dunque stanno a significare quello per chi non lo sapesse porta susi dove è porta amore che è un'altra casciola vabbè questa che ti do per questo una crocchetta giusto porta susi porta porta susi dove si passa malissimo qui mamma mia ecco tesi perso è caduto qui bravo amore bravo che venerò uno a te perché l'hai sentito tu dai tu gliel'hai fregato come al solito bravo complimenti bravo espa trova trovo espa porta susi amore e questa è la casciolinda bravo amore porta qua su ci porta bosco magnifico posto stupendo guarda che carpini spettacolari carpinita con brugnolo ogni tanto qualche boschetto di brugnolo capito un bosco proprio bello 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 siamo sui 800 7 800 metri e adesso del superiore è qui che gli fa male secondo me porta susi porta sui porta bravo quando l'ha sentito lontano quanto l'ha preso lontano quanto l'ha preso lontano bravo amore bravo amore che nasino che c'hai bravo bubù bravo dai su allora signori ci vediamo il prossimo video perché i video troppo lunghi stancano le persone bene bene Grazie.